Botta e risposta tra Di Maio e Calenda sulla vicenda Ilva, lei cosa vuole aggiungere? Bisogna dire una parola di verità e di certezza in particolare per questo territorio, per la città di Taranto, per i lavoratori, per tutti i cittadini. Io dico solo questo, il governo la smetta con la propaganda, ora tocca prendere delle decisioni con serietà. Dicano chiaramente che cosa vogliono fare per salvaguardare l'occupazione, la salute, il territorio e la smettano di giocare alla propaganda e all'annuncio. Perché non è più tempo, perché adesso sono passati dall'opposizione al governo e quando si ha il governo si ha mille responsabilità in più. Quindi purtroppo oggi abbiamo ancora vissuto l'ennesimo tempo di annunci, spot, di dichiarazioni che però non si traducono in fatti, in responsabilità. Io chiedo al governo questo, lo facciano innanzitutto per rispetto di una comunità che sta cercando risposte e deve avere risposte.